ciao a tutti e bentornati allora capitolo otta settimo il cammino davanti a noi l'inquisizione ha pagato un riscatto alla guarnigione inglese perché catturasse yugo per fortuna amissi e il bambino riescono a fuggire dal campo con l'aiuto inaspettato di due banditi incontrati prima meli e suo fratello arthur che resta indietro per creare un diversivo capitolo settimo si non ne ho idea amissi amissi vecchia vecchia volpe wow veramente c'è qualcosa qua da prendere giusto rompi i coglioni boom lo sfondo con la testa ok Bambini e lavori forzati E io cosa posso fare? Vai Bene Basta direi no? Porca vacca ho sbagliato No c'è qualcosa che non quaglia Io non posso rilasciare questo Ah invece si che posso Ah ok Assolutamente si Se il bambino rompe balle Eh Bene Ok Insomma Abbiamo battuto il mulino Sì Potenziamenti Più o meno Rocce Vabbè vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa E questo? No Ma che Peccato Però 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 E beh E questo? Ah forse sono da prendere dopo Credo Oppure Eh 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 Ahà Eh già Eh già Vediamo se riusciamo a prendere qualche materiale buono Sì E fu così Che Hugo morì di vecchiaia Ah beh Beh Tutte queste fatiche Per un collezionabile Eh vabbè Ok dai Né con oggetto no Vabbè Via Via We'll Go Through here Come on You trying to impress me or what? No All right come on It's pretty here And it smells like earth Che The Archiduck Is that where Lucas is? I hope so I doubt this castle is going to look like much Why? This used to be a village But it was reduced to rubble in just one night Years ago Some say there's a curse around these parts Missia? She's joking Hugo Of course I am Since when do I say anything true eh? Eh già Palsona Vediamo se c'è qualche Materia prima da prendere magari Ecco qua Puoglio Bene Hugo vai a vedere dentro per favore He 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 Do people live here then? Yes But they left Why did they go? Somewhere else Oh Puucha un fiore Imaginado You know what that is? Poor thorn I think Nobody likes it because of the thorns But it's good for the heart Well You're not a fan of knowledge Mommy taught me You can teach me then And will you teach me how to use this thing? It's a deal Bene Cavo Altro No Quasi quasi farei uno scatto all'indietro Vedere se riusciamo a potenziare un po' Qualcosa a caso Vediamo un attimo Perché mi sa che era proprio il cavo che mi mancava Può anche essere che mi sbagli in realtà eh Però Siccome c'è un banco qua vicino a cavolo Proviamo dai Sto cacchio Che struttura strana che è questo gioco Vabbè dai non importa Lì qua non ci si va mica vero? No Come here Oh What's wrong with it? Hugo Hugo, look at me Is it starting again? Your head It's like Something's going inside My legs My legs are shaking Don't say he's been bitten It's not the bite It's something in his blood Since he was little I'll have to carry him Climb on my back if you can Come on Okay Sorry Don't worry If it's in his blood What about you? I'm fine Lucas is trying to slow the effects down That's also why we're going to the shuttle Benicia I'm scared Of what, Hugo? What's in my head Don't worry We're all scared of what's in our heads Here we are You'll be able to rest At last We're all scared of what's in our head We're all scared of what's in our head Help me lift this Arrivo Se Hugo si toglie Dai su Hugo, can you climb down please? Non voglio essere brusco però Ho avuto una brutta giornata Digli la missia Is this your house? It's a hideout lad It's meant for hiding out Not banquets with lords and ladies Don't touch that It's my brothers That's where the lot that is How long have you been living like this? Like ruffians and beggars You mean? Family tradition Our dad was a piece of rubbish Tried to bet us one time too many So we skedaddled But you You're almost royalty Royalty Royalty? Messia What does huh mean? I'm cold Can't you see? Look at us We've lost everything What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate Lucas He said you're rich Just forget it alright? Take out those straw mattress And when he finally gets here We'll have a proper discussion Fair So See anything? No Nothing there Hey Men This way I need some help I need some help Where does that go? Outside Yes But where? Just trust me And your brother? He should have been here by now Sorry Don't give up on him just yet Shit Stay down He has a helmet Ah Deverantis What? Deverantis So pizza and alcohol It burns your face and melts steel No one can keep the helmet on with that Get some ready Alright Costringe nemici colpite alla testa Leversi l'elmo Che storia Go on Aim for the helmet Si Wow Che storia Cavolo Bello Cavolo Bello 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 3 4 4 4 1 Porca vacca Giusto perchè non volevo spaccare lo zolfo Oh shit Oh shit There's one with a helmet You know what to do Yes A noble family or what? If I find her Any idea where the wet stones are? In one of the boxes But it's an unholy mess in here Zitto non fare casino Che bello che uccidere la gente qua Mmmmm Attenzione Yes Heheheh Hehehe Oh no I knew it Keep calm You see the little car is over there? That's our way out Listen Amicia You have the sling So you go through Prima, Hugo, guarda un guardo e resta quieto. Ok. Vediamo un po' chi riusciamo ad uccidere e chi no. Sono quasi tutti con l'elmo, il che non è una buona cosa. Non è una buona cosa, purtroppo. Ottimo. Figata. Questo qua gli rompiamo la testa a prescindere perché mi sta sulle balle, eh. Ecco. Ecco. Sì, sto Pirla Aiuto Cacchio Porca vacca, non mi ero ricordo Non mi ero ricordo che quello stronzo lì, inginocchiato, avesse l'elmo Vabbè, ok, dai Ho voluto strafare, ho pagato le conseguenze Tanto per cambiare Oh Vai via che adesso gli spacco da testa che sto io Bene Sì, volevo arrivare là io Come ci sono degli oggetti interessanti per quello che Volevo fare questo giro qua prima Che ci vede quello là secondo voi Ci andiamo qua, tipo Oh Oh Oioioioioio ecco appunto Che venga qui dentro No Porca vacca Vai via per cortesia dai Bene Ti conviene sì perché stavi rischiando la vita C'è qualcosa qui dietro, vediamo Ok Mi sa che quello lì dobbiamo ucciderlo, lo sapete Perché A meno che non facciamo il giro per lì qua Sì, anche l'alternativa Ma in realtà non sono convinto, sapete Magari facciamo così No, infatti Beh Non ha funzionato, è troppo distante, porca vacca Dai, vai via Vabbè, in qualche modo ce l'abbiamo fatta, dai Non male, dai Più o meno Poco casino, eh Tadam Non potevo lasciarlo lì, cavolo Bene Lucas, bene Perché non mi scende qualche altra magia Eh già Vabbè, ovviamente per magia intendevo qualche composto alchemico Però vabbè, insomma C'è nulla da prendere qua, no? Vabbè Andiamo avanti, dai Purtroppo scattare, non si può Andiamo avanti così Cos'è un chasso qua Escapa una via E vai Cuoio Ma dai, cacchio, il cuoio, ma perché? Ah, ok, va bene Vabbè, ok Attrezzature La cintura di Amicia Rinforzata alla spessa striscia di cuoio Può trasportare abbastanza attrezze Da permettere di migliorare l'equipaggiamento ovunque voglia Ah Ma in realtà non è che mi interessi più di tanto, eh Comunque vabbè Facciamolo, dai Bene C'ha il nitro, eh Ok Qualcuno di voi mi ha detto Vedrai che a livello 8 ti faranno il mazzo Diventerà difficilissimo il gioco Bella immagine effettivamente Più o meno Come? Vuoi dirmi che è morto Arthur? No, eh Beh Ah, ok Certo che senza me lì non riuscirebbero a fare niente a sti qua, eh Ma veramente sono proprio inutili come persone Anche lì la ragazza fa tanto la spavale Dopo non riesce neanche a tirare giù una scala Vabbè Qua, quà? Qua? 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 Simpatica Povero Laurentius, eh Che fine della troccia che ha fatto Brucciato vivo Mamma mia In mezzo ai topoloni Fantastico C'è il pontone Ciao 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 Bene Beh ma il migliorare l'attrezzatura Ah così con inventario Ho capito Ok Quindi uno sta di qua Mentre ci spinge di là e dopo viceversa Credo E poi facciamo... I luci di underground sono magici, grandi, antichi monstri scendono in loro profondità, e guardate, sono molto freddi. No, non sono. E se eravamo monstri, potremmo vedere alcuni grandi bubbeli. Hai capito? Mamma mia ha detto che i monstri sono solo quelle cose, quelle cose, anche? Solo quelle cose a cui non abbiamo mai dato un nome. Mi ha detto anche di questo. Mi piace molto vedere un monstro, in realtà. C'è un abbandonato? Certo, questo è l'ora che stavamo fuori. Oh, era troppo rapido. Lo so, ma è una volta di qualcuno di qualcuno. Non ci sono alcuni monstri qui, ma potrebbe essere un monstro. Un monstro è grande, sai? Sì, ma questo non è. Perché non? Un monstro che non vuole vedere se stesso. È sbagliato perché è piccolo, ma sono sicuro che è bello. Sì, io ho visto chiaramente che loro non stavano facendo niente. Perché non sono salite anche loro, allora? Bah. Niente. Non c'è nient'altro da prendere qua, eh? No. Va bene, andiamo avanti. Bravissima. Amelie. Topoloni. Ugo, ovviamente. Ahella, cosa è questo posto comunque? È... Non, non può essere. Dobbiamo vedere questo da più vicino. È quello? Oh, guarda, Luca. Ma cosa, Luca? Ma cosa è il problema? A questo bravissima può portare la lunghezza del tronco. Luca? A questo, il modo di più altra? E' un sistema di dipendente. come un castello come un rat trap proteggendo qualcosa e? come funziona? facile i braziers puggono i rati verso la pietra e si sono troppi là potrebbe essere utile chi ha construito? non lo so ma sembra antico come on Lucas vediamoci Melly scrive Melly mentre i bambini sono a dormire dovremmo andare chi ha construito questo? qualche... quindi io questo qua lo sposto di là e i topi verranno bruciati praticamente veramente vero interessante bello cavolo i bruciari tutti se non postasse così tanto fare lì luminosa ma purtroppo costa moltissimo per cui no niente non si può ancora migliorare va bene vai vai bene bene brava come on cross over you two Lucas Lucas vuoi accenderlo tu no vero vabbè lo accendo io dai ho capito eh già tutti nella buca maledetti infami ratti rivoltanti ratti rivoltanti perfetto perfetto eh sì è vero prendiamo queste cose qua che schifo che schifo che schifo speriamo speriamo di roccato però è vero che esiste chateau d'ambranche è meraviglioso ho avuto un momento di dubbio ma quello è la legenda di arcanistica che mi piace vabbè bello cavolo bello cavolo ah ok ottimo quando ci sono i lampi i ratti scappano bello cavolo accetto dei quattro ladroni niente vabbè non e invece ho capito che dobbiamo usare l'ignifer ho capito, ho capito, dai va bene così eh ecco aspettiamo che adesso faccia un lampo di nuovo ok ma vabbè più facile delle previste ero te e fu così che si bah che strano spettacolare certo che come avventura in sé è bellissima eh cavolo immaginate ad essere una in un posto del genere in una condizione del genere avrei il cuore a mille io ah già sbagliato beh sicuramente quello lì bisogna accendere in qualche modo poco ma sicuro e fin qua ci siamo e qua ah ecco che schifo ovviamente sette cieli sono rimasti eh ecco bene però non sono mica convinto che sia giusto così sapete mi sa che erano da buttare la di sotto o no grazie quindi adesso noi andiamo a prendere il bastone wow 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 e diamo fuoco a quello giusto sì beh ma perché non vengono ah sì sì ciao grazie bene bene ma non benissimo in realtà perché sono in trappola adesso comunque vabbè ce l'ho fatta dai ad arrivare fin qua evidentemente loro aspettano che faccia tutto ho bisogno di Meli per push that dai passate dai bene 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 ok 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 allora allora sapete cosa mi sa che avrei dovuto lascerlo spento fare andare là in fondo Sì. Ah, speriamo bene, dai. Allora, va cos'è che abbiamo? Vabbè, comunque sei sono tanti, dai. Però c'è anche l'alcol qua, lo usiamolo. Riprendiamo questo, riprendiamo questo. E lasciare... I materiali qua. Adesso questi qua vanno di qua, giustamente. E lei? Li rispingi, giusto? Vero, Amelia, sì, eh. Ok, dai, è giusto così. Guardate. Sì, ottimo. L'ultimo settore ora, devo tornare alla linea. Sì. Cavo. Oh, finalmente. Sacca munizioni. Sperimentando nuove tecniche per la concia del cuoio, a miscia migliora l'elasticità dello suborce e ne aumenta la capacità. Perfetto. Ottimo. E vai. Star Wars, batte il fronte 2 e deve giocare. Sì, ci sono ancora ratti qui sotto. Ho bisogno di prendere il brazier. Ah, ok, ha ragione, ha ragione. Quindi bisogna che me lo porto dietro. Ho sbagliato, ragazzi, scusate. Questo capitolo è particolarmente lungo, so se l'avete notato. Allora, qui andiamo ancora. Hai fatto? Sì, sei ok, Hugo? Sono ok, ma stai chiedendo. Non preoccupate, il stupo va a trattare le nostre voce. Sì, buona luck. Ratti maledetti. Bene. Wow, 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 wow. Piano. Schifette. Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Anche secondo me. Va bene. Vai. Ma che c'è? No, secondo me ce la facciamo, sapete? Perché ero Nignifer. Così, guardate. Tadam. Dovremmo farcela, sì. Speriamo, eh. Ottimo. Qui non c'è niente da prendere, no. Questo qua mi sa che è l'uscita. Magari. Qua dietro. No. Ok. 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 Ah, non ho fatto il caos. I'm going to need you. I'm coming. All right, here we go again. This is how you conquer a castle. This is how you get sick. No, not in my version of the story. Perfetto, direi. Ah, vabbè, ok. E adesso? Beh, ma non vengono mica qua di là, no? No, c'erano delle munizioni qua? Oh, mi ricordo male. Forse ci sono già stati lì. Bah, vabbè dai. Ah, ok. Giusto, 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 giusto. Giusto, 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 capito? Dobbiamo spingerli via, questi. Per l'ultima volta. Eh, 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 eh. Di qua. Ok. Eh, già. Adesso tocca a lei, eh. Non so perché sia andata là. Ah, perché la sta tenendo ferma, ho capito. Adesso lei molla allora, giusto? No, 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 no! Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Come on, back off, you bastard! Retreat before Amicia the Amazon and Meli the Fury! What? Meli the Fury! I told you you didn't know me. Qualche troppo è scappato, maledetti infami. Bella sta parte, molto bella davvero. Yeah. We pushed them back. The castle saved our lives. Yes. Laurentius was right. To celebrate our victory, would you mind if we get out of the rain, please? Right. To the tower. Sì, vieni da l'acqua e calma. È enorme. Abbiamo tempo per esplorare. Questo è il nostro casa. Capitolo 8. Casa nostra. Bene. Vi è piaciuto questo capitolo? A me sì, moltissimo. Sia per i tipi di indovinelli, fra virgolette, sia per l'atmosfera. Wow. Vallo, eh? Sì, ho trovato molti e molti e molti e molti cose. Vieni a vedere, ti piace davvero. Vieni a vedere, ti piace? Come, come! Qual è questo ruolo? È Luca, seguimi. Ti vedrai? Sì. Bene. Bene, ragazzi. Noi qui. Chiudiamo la puntata. Spero vi sia piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao.